Amadou Gueye, senegalese ma avellinese di adozione da sette anni, vive in città e festeggia ancora oggi, a distanza di qualche ora, la vittoria dei gialloverdi in Coppa d'Africa. L'avellino nel suo team annovera Mamadou Kanute, calciatore diventato un idolo della tifoseria biancoverde. Il mediatore culturale lancia un messaggio speciale al numero 7 dei Lupi. Molto contento, grazie, perché da tempo aspettiamo questa Coppa e grazie che l'abbiamo ottenuto. Sì, sì, lui mandi un messaggio per lui dire che Kanute, noi siamo dietro tu, ti aspetta anche, ti fa vedere che noi vogliamo che tu veni dal Senegal a giocare con noi e siamo dietro tu. Comunque ti vedo, ti guarda, anche tu, se tu non guarda, noi ci guardiamo insieme e siamo i vostri tifosi e forza Senegal. Non solo Gomis, Tiam e Kanute, Amadou è legato da un splendido rapporto di amicizia anche con un altro ex calciatore dell'avellino della stagione 2001-2002, Osman Sené. Sì, sì, Osman Sené lo conoscevo molto perché lui veniva da noi, gli aiutati, prima che lui stava qua, noi venivamo allo stadio per vedere la partita con Osman. Vraimenti era un bravo ragazzo, anche gli ogavano bene, grazie. Vorrebbe trascorrere una domenica allo stadio per assistere ad una partita dei Lupi e di stringere la mano e parlare da vicino con l'esterno dei Biancoverdi. Sì, li aspetto, li aspetto perché noi, dove sono i nostri compagni, noi dovremmo essere dietro a lui. Anche a Avellino noi aspettiamo di vedere la partita come primo, come Osman Sené, di vedere dietro a lui dare la mano. Adesso noi siamo tifosi avellinese, quindi mi fa piacere di venire dietro a Osman, direttro a Momodou. Grazie a tutti.